stavolta ti riempio di botte te lo giuro la riempiamo di botte questa volta allora ricapitoliamo c'è chiara che è impazzita e non ci vuole far scappare allora come si fa qua aiuto 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 no 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 mi sto cagando addosso mi sto cagando mi sto cagando addosso mi sto facendo letteralmente la cacca addosso aiuto come perchè non mi fa sparare oh non mi fa sparare ve lo giuro ma che cosa non riesco oh ma che cazzo è ma che è sta storia fermi guarda che non riesco a sparare ma perchè non riesco a far nulla ma perchè ma vaffanculo ma perchè ma cosa ma sei serio non funziona un cazzo non funziona ma che cavolo ma che cavolo ma c'è non spara ma perchè poi cioè guardate io adesso prendo la face cam e ve la metto qua qua di fianco questo questa è la tastiera è la fottuta tastiera no io dovrei sparare con la S la S è qua no ma la S Cristo non spara guardala guarda che quell'altro guarda quanti sono non spara non spara nessuno è una cosa è una cosa allucinante ma perchè poi e questo qua è un salvataggio di prima cioè non è che è quello di prima che diceva beh è buggato amen no raga c'è c'è sto aprendo i tasti con no dai ma mi si è buggato il gioco ma siete seri ma io non ci voglio credere veramente ma c'è io 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 devo 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 pre-registrare i video devo pre-registrare i video e porca di quella puttana mi si bugga il gioco ma che significato ha sta roba cioè io non non è che io questo qua lo carico come extra comico perchè veramente è una cosa è ridicolo è ridicolo letteralmente ridicolo io sto premendo stoppa con tutti i tasti è una cosa assurda ma non spara più ma perchè guarda si è sminchiato il gioco boh c'è se avete qualche idea per mettere a posto sta roba fatemelo sapere nei commenti io parto ciao ciao